ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video marika saluta marika non vede l'ora di spacchettare vero sei pronta poverine senza voce purtroppo un po di tracheite comunque questi sono i miei pacchettini arrivati oggi finalmente prima di spacchettarvi cioè di spacchettarli scusate vi ricordo che se vi piacciono marika aspetta se vi piace spacchettare insieme a noi veniteci a trovare sul gruppo facebook passione aliexpress spacchettamenti pazzi e veniteci a trovare anche sulla mia pagina facebook riccioli ribelli family naturalmente a fine video o meglio giù nell'info box vi metterò il link dei degli oggettini che vedrete marika quali apriamo prima questo questo allora vediamo un po ecco qua questi sono dei braccialetti che abbiamo comprato dei supereroi allora abbiamo preso questo qui che è di capitano america questo per chi è marika capitano america apriamo torniamo dalla plastica ecco sono regolabili non vedo qui questa luce del cellulare è tremenda dovrebbe scorrere ma un po forte vabbè vediamo se a me va e l'ho presi per i bambini però mi sa che c'erano bene a me vabbè allora andrà un po largo allora ho preso capitano america che è questo per vincenzo poi abbiamo preso spiderman che è per mio figlio Antonio Antonio vero marika questo qua e poi abbiamo preso wonder woman eccolo qua per per chi è questo marika per la mamma per marika è vero sei wonder woman tu sei una piccola wonder woman vediamo tuo braccino no ma è grande ma è grande ma è grande marika ha due anni però è proprio carino è proprio carino è carino allora questi braccialetti li abbiamo pagati 87 centesimi l'uno quindi aspetta marika quindi proprio una stupidaggine e sono questi eccoli qua poi questo l'abbiamo aperto con le pacchettine apriamo marika questo vediamo qui allora ecco qua cosa c'è qui dentro marika con un orologio mamma mia non ho mai acquistato su aliexpress si un attimo solo marika allora questo è un orologio vi dico subito che l'ho pagato 2 euro e 37 che nonna cosa che nonna cosa che dici marika ah è di marika no non è di marika non è di mamma vediamo come si apre ok questa con le aperture vediamo insomma un po' larghetto però avete messo metto un po fuoco ma è carino sicuramente bisognerà togliere un due maglie perché un po' largo però tutto sommato è abbastanza bello allora questo orologio abbiamo detto abbiamo pagato due euro e 37 ed è questo qua mettiamolo qui allora cosa apriamo adesso questo qua allora questo è un che cos'è marika un bracciale un bracciale di quelli simili ai pandora aspetta marika fermati beh questo alla fine prima questo vedi allora questo abbiamo preso a misura 18 cm questo ha anche la catenina di sicurezza e il fermo in silicone quindi non dovrebbero scappare il rischio ecco ho messo meglio a fuoco qua ci sono dei cuoricini questo non capisco ah c'è una scritta love ma insomma è carino un abbre della vita poi c'è questo pendente a quadrifoglio questo è una matrioshka oddio non si distingue tanto però dai carino vediamo come si apre ah questo ha l'apertura così si con la catenina di sicurezza mamma questo abbiamo preso a misura 18 cm marika ferma aspetta vedi vediamo riusciamo a metterlo questo mamma mamma mia mi sembra un po' piccolo è piccolo oddio è veramente piccolo marika ferma se tiri io non ce la faccio mannaggia a te è veramente piccolo è piccolo oddio non va non riesco a chiuderlo mi va strettissimo ecco l'ho chiuso è troppo piccolo è strettissimo quindi qui cioè sicuramente io un po' so comunque piccolo non un po' so grande quindi cioè comunque lo devo misurare secondo me o il fatto è che è troppo pieno magari marika ferma ma e quindi questo è il bracciale sicuramente da prendere una misura più grande adesso ultimo pacchettino ma questa volta veramente pacchettino perché mi è arrivato nella scatola sono due bracciali che ho acquistato questi sono quelli rigidi simil hai visto che carini marika ma questi sono proprio aspetta marika ferma questi sinceramente non se ne trovano tanti hai visto che cos'è una stella è tua adesso vediamo questi non se ne trovano tantissimi di questo genere perché si trovano tantissimo i braccialetti quali simil pandora però adesso ho trovato questi e ho voluto provare guardate che carini qui c'è la medaglietta con la stella la conchiglia piccola la conchiglia lunga e una finta perlina questo è mio è tuo questo sì questo braccialo l'ho pagato appena 1,27 euro questi comunque sono regolabili grazie a questo questo meccanismo che hanno ecco vediamo un po' aspetta marika ma questi sono perfetti io non sinceramente non ce l'ho anche il dutto originale è proprio carino e quindi questo marika tieni vuoi tu? sì quindi questo voglio questo sì tieni marika metti il braccio metti la manina tieni 1,27 euro questo appena di meno 1,24 euro apriamo ecco qua si è incastrata un po' la stella vediamo se riesco a metterla a fuoco sì abbiamo la stella marina questa perlina celeste poi di nuovo le due conchiglie quella marika ferma quella grande e quella piccola sono veramente carini sinceramente a me piace di più questo celeste però anche questo è bello molto bello è vero marika è molto bello e niente questi quindi sono i miei ultimi acquisti mi raccomando se vi piacciono i nostri video dateci un mi piace iscrivetevi al canale così avrete aggiornamenti ogni volta che pubblichiamo un video marika saluta dai ciao a tutti ciao a tutti vi lascio il link per iscrivervi al nostro canale e un po' di altri nostri video ciao 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 Grazie.